buongiorno sono giampaolo dalla Pasolini auto di gussago in provincia di brescia oggi vi presento questa fantastica fiat 500 abart con kit ss vettura immatricolata nell'anno 2008 unico proprietario 129 mila chilometri originali percorsi vettura mai sinistrata appartenuta a una persona di circa una sessantina di anni monta il kit ss quindi la potenza schizza 160 cavalli kit ufficiale riportato libretto ruote lega 17 pollici spazzolate su fondo bianco naturalmente filtro bmc barra duomi o mp assetto sportivo marmitta record monza la 500 ideale da acquistare per divertirsi abbiamo sedili sportivi in stoffa nera volante sportivo tre razze multifunzione ecco i 129 mila chilometri percorsi radio cd mp3 sistema blu e mi tasto sport climatizzatore manuale cambio meccanico cinque rapporti questa 500 è veramente pepata molto divertente fantastico il colore bianco con librere rosse è disponibile in pronta consegna viene venduta con 12 mesi di garanzia legale di conformità vi aspetto gussago presso il nostro autosalone pasolini auto per vedere provare ed eventualmente acquistare questo splendido scorpioncino grazie